Ci siamo, il Teatro Rossini di Gio del Colle riapre i battenti, con una stagione davvero irripetibile e unica. Apriamo il 30 novembre attraverso l'antiprima dei Magnacchi Rece Wars, con la partecipazione di Claudio Santa Maria, di Francesca Barra, di Renzo Urbino e con la cantante Noemi. A questo spettacolo eseguiranno tanti altri, variegati, con danza, prosa, musica. Abbiamo offerto un ventaglio culturale straordinario, per cui vi chiedo di prendere visione della nostra proposta teatrale e di venire qui a Gio del Colle e al Teatro Rossini a godervi tutti questi spettacoli straordinari. Grazie al Teatro Pubblico Pugliese, grazie all'Assessorato alla Cultura di Gio del Colle e grazie a tutti quanti coloro vorranno venire qui da noi a godersi questi spettacoli straordinari. Benvenuti al Teatro Rossini, benvenuti a Gioia del Colle e siamo in procinto di iniziare la stagione teatrale 2019-2020. Sono felicissimo, sono Lucio Romano, l'Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Gioia del Colle. Il 30 novembre parte questa desiderata stagione teatrale con il Magna Grecia Howard, con Fabio Salvatore, per poi partire ed entrare nel cuore della stagione scelta di concerto con il Teatro Pubblico Pugliese. Il primo appuntamento sarà il 13 dicembre. Io vi aspetto, l'amministrazione comunale e io in particolare ce l'abbiamo messa tutta per fare una scelta di qualità, una scelta di livello, una scelta anche molto condivisa tra le associazioni, le realtà culturali e anche, perché no, gli amministratori di Gioia del Colle. Vi aspetto con tanta ansia, con tanto desiderio e con tanti sorrisi. Grazie.